Android sbarca in automobile con Parrot Asteroid, un'autoradio basata appunto sul sistema operativo di Google, consente di utilizzare la radio come sistema di riconoscimento vocale tramite bluetooth, quindi la prima voce senza staccare le mani da volante sarà possibile puntuare e ricevere chiamate, qui abbiamo ad esempio la nostra lista di contatti traelevate dallo smartphone via bluetooth, funziona ovviamente con tutti i tipi di smartphone sia iPhone che Android ma anche con telefoni normali che supportino queste funzioni via bluetooth. Abbiamo ovviamente la classica radio FM, è possibile controllare i dispositivi come lettore MP3, in questo caso abbiamo un iPod Touch collegato nella parte inferiore, abbiamo la possibilità di controllare la musica da USB oppure da scheda SD integrata o ancora da ingresso di linea. Abbiamo anche una serie di servizi internet fruibili grazie a una chiavetta 3G di un qualsiasi operatore collegabile tramite USB oppure sfruttando la connessione dati del proprio smartphone condivisa attraverso bluetooth. Qui vediamo ad esempio Live Radio per le web radio, abbiamo anche Coyote per vedere gli autovelox che sono di fronte a noi e mappe per sapere la nostra posizione sulla cartina di Google Maps e cercare eventualmente informazioni nei dintorni. Mancano però le funzioni vocali in questa versione. Abbiamo anche EcoCarbo per scoprire quali sono le istituzioni di servizio col carburante più conveniente nei dintorni e installer per installare applicazioni nuove all'interno di Asteroid. Nella parte posteriore troviamo i classici collegamenti, quindi collegamenti agli autoparlanti con tali e posteriori e quattro porte USB di cui una dedicata a iPhone e Apple, quindi dispositivi Apple. Abbiamo poi il classico ingresso per l'antenna e un ingresso anche per il microfono e un ingresso di linea per collegare ad un eventuale altro dispositivo. Come vediamo la radio è estremamente compatta, quindi porta via poco spazio all'interno dello slot per la radio e di conseguenza è possibile anche lasciare collegate delle chiavette USB direttamente alla porta posteriore senza sporare nella plancia. L'autoradio Parrot Asteroid sarà disponibile sul mercato a partire da maggio.